Dalla pagina odierna del Vangelo, in cui Gesù rivolge critiche severe agli scribi e ai farisei, ma lascia anche consegne importanti ai cristiani di tutti i tempi, il Papa ha preso spunto per ribadire il peggior difetto di quanti, pur rivestendo un ruolo, avendo qualche autorità, sia civile che ecclesiale, esigono dagli altri cose, anche giuste, che però loro non mettono mai in pratica. Legano fardelli pesanti sulle spalle della gente, vivono una doppia vita, sono inclini alle apparenze e fanno sfoggio di superbia. Questo atteggiamento è un cattivo esercizio dell'autorità, che invece dovrebbe avere la sua prima forza proprio nel buon esempio. L'autorità nasce del buon esempio, per aiutare gli altri a praticare ciò che è giusto e doveroso, sostenendoli nelle prove che si incontrano sulla via del bene. L'autorità è un aiuto, ma se viene esercitata male diventa oppressiva, non lascia crescere le persone e crea un clima di sfiducia e di ostilità e anche porta alla corruzione. L'atteggiamento del discepolo di Cristo, ha affermato Francesco, deve essere invece improntato alla modestia e alla fraternità e non a cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia, mai considerarsi superiori agli altri e se abbiamo ricevuto delle qualità dal padre le dobbiamo mettere al servizio dei fratelli. Al termine il ricordo dell'indiana Suor Maria Vatalil, uccisa in odio alla fede nel 1995, beatificata ieri ad Indore. Grazie.